I consiglieri regionali del Partito Democratico hanno presentato un'interrogazione per l'avvio dello screening di massa in tutta l'isola. Primo firmatario della richiesta, il consigliere Roberto Di Rio. Secondo quanto riporta il documento, i tamponi antigenici da effettuare su tutta la popolazione sono l'unico modo per limitare il diffondersi del virus da Covid-19 in Sardegna. Per il consigliere del Partito Democratico, gli screening che fino ad ora sono stati fatti nei piccoli comuni non sono sufficienti a tracciare i contagi. A supporto di quanto sia necessario avere un quadro preciso delle persone contagiate, i consiglieri del PD fanno riferimento a quanto accaduto in Alto Adige, dove grazie ai test di massa, dalla fine di novembre sono stati isolati i casi di coronavirus, riuscendo ad arginare la curva dei positivi. La Sardegna invece continua ad essere in ritardo, ha proseguito Di Rio. Per questo motivo chiediamo al presidente Solina se all'assessore Nieddu si ritengono opportuno utilizzare lo screening di massa in tutta la Sardegna, al fine di arrestare la diffusione del contagio sull'intero territorio regionale e tutelare al meglio la salute della popolazione.